Si va dentro invece con Illicici sul secondo palo per Masiello che trova il gol del vantaggio e il gol numero due in questo campionato totalmente a vuoto consigli e Masiello in realtà si regala a lui la gioia dell'1-0 per l'Atalanta. Questa uscita totalmente folle di consigli ha perso l'orientamento, ha perso le coordinate del pallone, non è riuscito nemmeno a sfiorarla, troppo facile per Masiello trovare il gol del vantaggio, è 1-0 Atalanta al 29esimo. Ci pensa Andrea Masiello, rivediamo il cross di Illicici, posizione da valutare, consigli disastroso, davvero disastroso in uscita ed è troppo facile per Masiello anticipare Peluso e trovare il gol del vantaggio, posizione al limite quella di Masiello, probabilmente la staranno rivedendo al VAR.